In diretta dal Parco San Vito per la terza tappa del Giro di Circello, oggi siamo un po' in ritardo rispetto alle previsioni, causa maltempo, causa quel cacacazzo di Martino Cassetta che si è fatto attendere. Adesso siamo pronti per partire dalla località Colle Sannita. In diretta dalla località Colle Sannita per la partenza del Giro, i ragazzi sono in pochi ma oggi a causa impegni lavorativi non sono potuti partecipare tutti. Lucia, dacci via quando sei pronta. Pronti? Via, si parte la sbandierata di Franchino Mottola è per tutti, guardatelo qua che forza, che grinta. Forza bestie, in bocca al lupo. Buongiorno! Pagina Facebook www.fans.michelemarino.bike Ecco qua, abbiamo superato il primo tratto, ci avviamo verso Pianelle. Fermi in località caderebbe l'arrivo della folta e numerosa squadra di ciclisti che stanno istruendo il traffico alla circolazione stradale. Levatevela a mezz'è la via! Pecore! Il piccolo gesto malsano di questi ciclisti che stanno staccando il gruppo. Vediamo lo svizzero Adriano che si invola solitario. Forza Adriano! Forza animale! Forza ragazzi! Patissio Nicola Petriella che continua a pedalare. Lo senti! Vediamo tutti i ragazzi in fila, ma in ultimo c'è sempre lui! Forza Michele! Forza Michele Marino! Siamo dietro al gruppo, ovviamente in ultima posizione c'è lui, Michele Marino, sofferente anche oggi. Michele, sei uno gnocco! Michela! Ci sono quasi! Michela! Le fans ti stanno già scrivendo su Facebook, Michi! Povero ragazzo, non ce la fa, è sempre stremato. Vediamo, in ultimo, in penultimo c'è Petriella Paolo. Eccolo qua, ripresa anche per lui, sofferente anche lui. Oggi non per il caldo, ma se ovviamente per la fatica. Eccolo là! I soldi ripresi oggi dalla signorina Chiara. Ecco un quartetto di ciclisti ben organizzato, che vede in testa, non si sa chi è quello con la maglietta aperta. Ah, è il cassetta. Buon cassetta Martino, che è avanti al gruppetto, al quartetto di ragazzotti. Eccoli qua, uno più bello dell'altro. Veramente dei miei ragazzi, da Fontustina, Indici Francki. Nicola Rossetti, nonostante mio. Forza Nicola Rossetti! Povero animaletto, è stanco. Dopo la Chiara ci farà vedere uno squarcio del sagno, di una bellissima terra chiamata Sagno, giusto? Sì, certo. Francki, cosa ne pensi sul sagno? È bello? È bella! Bello il sagno, giusto? Il sagno, è bello. Veramente, adesso cerchiamo di raggiungere il duetto in testa che vede Giovanni Petriella. Ed incredibilmente oggi c'è, non Motola, Motola in macchina. C'è Dagriostino Adriano, giusto Francki? Adriano! Avua, Adriano! Avua, Adriano! E qui qua, tutti quanti in volata, ma il brutto deve ancora arrivare la strada di Pianelli li farà creare. Posto. Fermi in località decorata per l'arrivo del primo gruppetto di testa. Vediamo, ancora in testa c'è Adriano D'Agostino, seguito da Giovanni e dal duetto di ciclisti, il friulano con Mimmo Mortaruolo. Altre due, cassetta che combatte. Forza Nicola, forza Nicola! Ecco qua, arriva anche Paolo Petriella che a fatica cerca di raggiungere il gruppo di testa. Ed eccolo qua, anche lui sta arrivando, il grande, l'unico, l'inimitabile, Michele Marino! Forza amici! Siamo dietro Michele Marino, nel frattempo ne approfittiamo per leggere qualche messaggio che ci è arrivato proprio sulla pagina dei fans di Michele Marino. Una ragazza chiede semplicemente se il ragazzo è fidanzato, potremmo chiederlo a lui, ma in questo momento lo vedo un po' i piccianti. Vediamo un pochettino il ragazzo sofferente. Michi come va? Troppo vento! Poverino! Oggi il suo problema è il vento. Il ragazzo non riesce a sfruttare la sua velocità perché è costruito dal vento. Siamo dietro Paoletto Petriella che anche lui oggi verrà in un posto. Sono mostremati questi ragazzi. Siamo dietro al burpetto e vediamo staccato un pochettino più indietro Nicola Rossetti, seguito da Giovanni Magliarosa, Martino Cassetta e avanti penso che ci sia il fuoripista. Il ragazzo del ciclista che si è unito al gruppo, sì sì no, è Friulano Marco Arianna, nome tipicamente Friulano. Ecco qua, un pochettino più avanti staccato in prima posizione, eccolo qui, solitario, Adriano Takostinen accompagnato dall'altro ciclista, Mimmo Mortarulo. Ecco qua, siamo giunti quasi all'arrivo. Siamo al pezzo finale, bancano pochi metri all'arrivo, vediamo chi c'è in testa. Adriano Takostino, ma oggi ha fatto una gara straordinaria. Vai Adriano, tua moglie ti aspetta in cima alla salita, vai, vai la vittoria è tua, non ti può sfuggire. Vai, vai Adriano, vai, 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 vai. Ecco qua il secondo concorrente, Nicola Rossetti in arrivo in volata. Eccolo qua, forza Nicola ce la fai, pochi metri. Dopo la curva c'è la tua salvezza. Vai Nicola, il paradiso terrestre è lì, ti aspetta appena hai chiamato tuo padre, ti fa l'imbocca al lupo. Vai Nicola, vai, vai, segui il trattore commato. Terza posizione Giovanni Petriella. Ragazzotto, forza vai che è dura, vai. Vai, pedala, che a te fa bene. Terza posizione per chi l'ho disgraziato di Martino Cassetta. Per colpa tua ci stava prendendo tutto sto fritto Martì. Vai, cammina, pedala. Forza Paoletto, forza. È dura lo sappiamo. Però ti fiamo per te, non ti preoccupare. Per farti capire quanto ti vogliamo bene, sono sceso apposto, sto correndo con te per seguirti passo per passo nel tuo arrivo. Com'è andata Michi? È dura questo cuore. Michi rispondimi. Com'è Michele? Non sei. Ah, è dura Michi. Michi, ti devo fare una domanda. Mi ha scritto una ragazza sulla pagina tua di Facebook. Mi ha chiesto se sei impegnato. Cosa ti posso rispondere? Ha scritto a te sulla mia pagina. Sì, sto soffrendo io la tua pagina di Facebook. Michele Marino. Fanzi di Michele Marino.bike Cosa ti posso rispondere Michele? Michi, cosa ti posso rispondere Michele? Per favore, vai a me la mia risposta. Questo non è molto veloce. Ma il dico che sei impegnato Michi. Mi guardavo sotto a te. Michi. Michele, cosa stai provando Michele? Lo vuoi una mano? Dolore. Dolore perché cosa Michele? Ah, è dura Michi. Anch'io sto soffrendo per te Michele. Lo sai? Michele, sei arrivato Michele. Michi, sei arrivato Michele. Michele, sei arrivato. Sei un grande. Forza Michele Marino. Vediamo Michele Marino che è sceso dalla pagina. Cosa è successo? Non riusciamo a capire. Le sue condizioni di salute. Ecco lì soffrendo. Michi, che è successo? Michi, dimmi una parola di conforto. Le fanze vogliono sapere. Michè, la gente ci scrive, chiede di te. Cosa gli posso dire Michi? Non ho niente da dire. Perché Michi? Perché fai così Michi? È stata dura Michè? Voglio dormire. È stata dura Michè? Qual è il tuo polpaccio? Quello dolorante. Questo qua. Su scendiamo che facciamo la premiazione. Guardatelo lì quanto è bello. Guardatelo là. In diretta da la località Pianella e premiazioni finale. Così giunti da Agostino a Trianen, primo. Secondo Nicola Rossetti. Terzo Giovanni Petriella. Adesso la valletta della giornata. Chiara Mortarolo effettuerà il riconoscimento della persona che ha vinto. Terzo classificato. Oggi ha sofferto le alture, ha sofferto in mal tempo, ha sofferto la fatica del viaggio. Giovanni Petriella si becca il terzo posto. Un saluto a tutti. Ecco qua. Bravissimo. Seconda posizione. Borraccia. Ennesima borraccia per Nicola Rossetti. A te Nicola, solo un augurio di buona crescita Nicola. Puoi solo spigliorare Nicola. Primo posto. Ladies and gentlemen. La prima volta per uno D'Agostino De Riscaccia. E' lui il primo vincitore della tappa a Pianelle. D'Agostino Adriano riceve il premio dalla valletta. Per lui ombrello in caso di pioggia. Visto che l'estate è molto piovosa. Ma un inedito, un inedito. Alla bandiera più bella d'Italia. Ennesimo premio per Franco Mottola. Guardatelo lì. E si becca un'altra medaglia. Grande fa. Franco faccio una sbandierata. E con questo chiudiamo la terza tappa del Giro Circello. A domani ragazzi. Buona serata a tutti. Michele, un saluto a tutti quanti. Manda un bacio alle fans. Domani prometti scendille? Sì, assai. Grazie. 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 Grazie.